Torna il campionato di Serie A dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, allora andiamo a vedere che tipo di giornata ci aspetta. Una giornata dove ci sono due partite molto interessanti, Milan-Juventus-Napoli-Roma. Una sorta di bivio per la Serie A. Che direzione può prendere il campionato in questa giornata? Cioè qual è la squadra che può emergere da questi big match che abbiamo appena citato? Beh io vado deciso su una squadra, la Juventus. Sì voglio puntare sulla Juventus in questa partita senza nulla togliere al Milan che sicuramente farà una gara importante. Anzi arriva a questo match con giocatori più in condizione e soprattutto non ci sono assenze pesanti. C'è il recupero anche di Gabbia in difesa, c'è il centrocampo tipo, c'è un Reinders in grandissima condizione, un Leao che sembra essere rilanciato. Insomma ci sono tutti i presupposti di attenzione perché il Milan non può sbagliare. Per Fonseca e i suoi ragazzi è la grande occasione, cioè cercare di riavvicinarsi a quel gruppo diciamo lì in testa, battere la Juventus. Ma perché punto sulla Juventus? Nonostante le assenze in difesa di Bremer ormai che conosciamo, Cabal si è aggiunto ultimamente, poi anche Blauic che poi tra l'altro su Blauic grandissime polemiche. Ma non voglio tornare su questo argomento che abbiamo ampiamente trattato, quanto invece voglio stare specificatamente sulla partita. Sulla partita perché credo che la Juventus nonostante le assenze, nonostante la mancanza di un centroavanti possa fare la partita di alto livello. Perché? Perché Tiago Motta è uno che in queste situazioni qui riesce sempre a trovare la soluzione, la mottata che abbiamo detto più volte. Mi aspetto una Juventus con un attacco molto rapido, palla a terra, nella ricerca del gioco continuo nel palleggio. Quindi attenzione, in attacco per la Juventus c'è lo spazio, non c'è il centroavanti di riferimento. Qualcuno potrebbe sorridere, ma attenzione a Weah, a Hildiz, allo stesso cambiasso che potrà inserirsi e poi a un Coppemainers che ho visto in netta crescita. È un confronto elettrizzante al centrocampo dove ci sono due olandesi che possono dire la loro. Da una parte Reinders che sta vivendo un momento di grandissima forma, dall'altra Coppemainers che sta risalendo dal punto di vista delle prestazioni. Ma la Juve è una squadra solida, la Juve non ha perso uno scontro diretto, la Juve è la migliore difesa del campionato, la Juve è la squadra che non ha mai perso nei campionati. Quindi attenzione, ci sono dei numeri, ci sono dei presupposti che fanno propendere per una prestazione rocciosa e una prestazione importante della Juventus. Questa è la mia sensazione, quindi staremo a vedere in questo confronto tra Fonseca e Tiago Motta. Poi c'è Napoli-Roma, che è una partita delicata per la Roma, che trova Ranieri e quindi mi aspetto una squadra con un blocco basso, che proverà a sfruttare le occasioni che capiteranno, lascerà fare la partita alle Napoli. Questa è la sfida tra Lukaku e Dovbic, due attaccanti che si devono un po' rilanciare, quattro gol a testa per i due, insomma non un inizio travolgente di campionato. Ci si aspettava molto, molto di più a mio giudizio da Dovbic, che al momento si è visto poco, ma io avevo delle perplessità già dall'inizio di questa stagione, mentre su Lukaku non avevo grandi aspettative perché secondo me è difficile rivedere quel Lukaku che noi abbiamo apprezzato con l'Inter. E non siamo neanche vicino a quel Lukaku che abbiamo invece visto l'anno scorso con la Roma. È un giocatore che a mio giudizio sta verso una fase diversa della sua carriera, dove pensare di poter far leva ancora sullo strapotere fisico di Lukaku mi sembra che sia alquanto complicato. Questa è un po' la giornata che stiamo arrivando, poi naturalmente è completa l'Inter che gioca d'anticipo contro il Verona, che non può sbagliare assolutamente, altrimenti si aprirebbero veramente grandi polemiche. E poi c'è Lazio-Bologna nella serata della domenica, che è una sfida tra giochisti molto interessanti. Dovrebbero esserci 2-4-3-3 in campo, stiamo a vedere nella Lazio, ci sono ancora delle defezioni. Però insomma tutto lascia pensare ad una sfida piacevole. Ripeto, complessivamente punto sulla Juve perché credo che nonostante le difficoltà, Tiago Motta, può in qualche modo incartare la partita a Fonseca. Staremo a vedere, se ho sbagliato, ne riparleremo qui naturalmente lunedì. Lasciate un commento, un commento. Ah, volevo chiudere anche sul discorso, perdonatemi, Blauic, Zyrsé se ne è parlato moltissimo anche durante Maracanà della settimana. Zyrsé, lo ripeto, tecnicamente è un giocatore superiore a Blauic, ma io ho sempre questa concezione che l'attaccante deve fare gol e di conseguenza scelgo sempre Blauic, perché comunque i gol li ha fatti. Chi non vede questo dato mi sorprende. Evidentemente, se noi consideriamo le difficoltà con Allegri e Motta, forse gli allenatori dovrebbero un po' più individuare le caratteristiche del giocatore e metterlo nella condizione. Poi, se lui sbaglia, un altro discorso, ma che si faccia un po' fatica a aiutare Blauic, era evidente con Allegri, era molto evidente, era chiaro ed evidente con Allegri per usare il discorso VAR, con Motta, diciamo così, siamo su quella strada. Quindi bisogna forse fare un passo verso il giocatore. Certo è che le ultime parole sue non aiutano e quindi, conoscendo e vedendo come si è comportato Motta, non escludo che possa avere un po' il pugno duro con Blauic prossimamente. Staremo a vedere, ma uno che segna, io me lo terrei sempre. Alla prossima, ciao!